Oggi è lunedì, 3 luglie Ma che sono belle La cosa veramente bella di oggi è La granita e il limone Ma soprattutto La briocia Lasciamola Aspetta Peccato che è pieno di zucchero e quindi è una maledizione Ma va bene lo stesso Hola amigos, video finito? Non ve l'ho fatto vedere perché erano le cose Per un concorso Quindi cose primate Non ve le potevo fare vedere Ma sta soffa sempre che mangi Ma come te lo sto mangiando? Che è il crimine E' sembra anche dei mostri E' nato di 4 luglie Ma di cazzo Stamattina mi alzo Solo con una consapevolezza E mi ha manco molto qualcosa di buono Non hai di tuo gradimento? Ricordate che mi sono fatto dal viale Fino a casa con la bustina Basta me andate a camminare e poi c'è la bustina Quando faccio i video a te E faccio sembrare tipo Tom e Jerry No? Perché devo fare dei genitori Ma mai in faccia Che hit se scarpe Che hit Comunque stiamo andando il palazzetto Perché qui dovrebbero fare un evento Quindi io ci sono fatti una sorta di sopra al luogo Un paio di riprese Un paio di cose E... Però non mi risponde nessuno Ne ho forse provito male l'orario io Oppure boh Il link del vlog del vlog del vlog Oggi il secondo round Si monta il leg a zero Ma prima vediamo come sta Il telefono Dove diverse bestemmie Non mi metto Non è riuscito a montarla Si è tutta gialla dietro Clip in macchina per dirvi che si Uno sono andato in agenzia a parlare di alcune cose Ma poi guarda che sono fighi Ma che sono fighi ragazzi Che sono fighi Stai mi dedo se non vuole lasciarmi più E quindi... Ehm... Acqua calda Miele e limone Editing Surry E stasera finiamo il video di Danbo Oggi è mercoledì 5 luglio Abbiamo finito il video di Danbo Nanananana Tan 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 Maria 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 Ma lì si disse che ci ha fatto Salma a Lucchè Ma... E' scasso del rinno Veramente Grazie risate napoletane Bocca di 50 1 o 100 Ammoni Ah l'ho fatto anche un altro Qualcuno di voi ha la minima idea di cosa significa Fare un lavoro E poi c'è una cosa che ti fa renderizzare quel progetto 2 miliardi di volte Perché nella timeline ti compare Ma non nel video esportato Oggi è giovedì 6 luglio Un 6 luglio con un outfit molto molto estroso Diciamo estraneo alle abitudini della mia città Ma... Raga oggi... Oggi in bar è top American... American player Però va bene così Mi sto distruggendo l'outfit Che è vestito così e lei mi sta mettendo ultimo Quits del vlog Cos'è accaduto lì dentro ma... Cos'è successo lì dentro? Che c'ho due figli No no è uno stuputo La sera di Halloween sono entrati là dentro con dei compagnetti E ci hanno lasciato andare le uova a terra No no al di loro delle cose L'hanno lanciato dalla sopra l'uovo là dentro No no dalla sopra L'hanno lanciato dalla sopra Perché poi il tizio Quanto sono coglioni Sanno tirando i cuori fino a dentro casa E poi gli hanno dato quello Se li ha portati presi per l'orecchio Se li ha portati dentro il negozio Ci hanno dato la carta Gli ha detto ora voi raccogliate qua tutte cose E mezzo quartiere l'ha presi per il culo Oh guarda che bello qua E qua non c'è ma... Cavolo Scriccioso Ah guarda che bello C'è un tour nato a casa Solita postazione E adesso Intanto mi libero un po' di memoria da qui Perché per il 22-23 mi si riega troppo a memoria Quindi Va sguattato un attimino Io vorrei fare tipo Quelle solite immagine che metto io so In Instagram Non vi like questa mostra Mi fa un po' paura di aprirla Proviamoci Devo finire Il video di danza Del saggio E cicciano non mi risponde Ricordati che lo stile non va a pile Oggi vi farò rivivere le vibes anni 50 Donna lavora Pulisci veloce Raga ma sapete cosa significa sono veramente contento Mi sono pesato E boh tipo una settimana fa Due settimane fa ero 88 e 2 Ora sono 86 e 2 Cioè questa applicazione sta funzionando veramente D'addio Tanta tanta cosa Adesso distrimo un po' le cose Perché ragazzi domani Il concerto di Borobor Metto la GoPro qui E vi racconto Tutto l'evento Ma questo ve lo racconto Domani È venerdì 7 luglio Qui le cose sono pronte Tutto carico Oggi ci siamo Non ci sono Solo io Mamma mia C'è la morte quest'oggi La morte Siamo con il Francesco Stiamo facendo volare un po' di drone Allora potrebbe sembrare un po' ammaranza Con questa borsettina così Però siccome è troppo grande Secondo me Mi si è imbannato l'occhio Questa borsettina così È un ultimo boomer Cianetta veramente easy Pollo e pane E poi siamo pronti Per questo evento di Boroboro Ah volevo Il mio staffone con un sciamo Il mio staffone C'ho paffato È tipo il principale Sì il principale Lei cosa fa? Mangio Mangio e dico cosa fare A mio punto Sotto io Giusto Ciao ragazzi E benvenuti in questo nuovo video Oggi Inaspettatamente Vi porti in questa nuova esperienza Dopo metterò anche la GoPro E tovado Per ora abbiamo questa Saremo videomaker E fotografi Di venire da solo Ufficiali Al concerto di Boroboro Così a caso Quindi abbiamo fatto un giro E vediamo un po' Quello che succede E' un po' Ma che cosa? Com'è? E' un po' 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 Oggi è sabato, 8 luglio Dici ma voi videomaker nel tempo libero che fate? Studiamo Stiamo studiando Tonight, chilling night In queste scarpe spettacolari La Maria Vina Monster ovviamente Nitro E Parinazzi Buongiorno ragazzi, ultimo giorno della settimana Ieri un sabato molto particolare Ma che puttana mi stava stoccando coddo Ieri abbiamo fatto un paio di riprese Cenetta romantica nella panchina di fronte E' bellissimo Visto che nessuno vuole inaugurare il limoncello con me Io sto dormendo, ora me lo inauguro da solo Di mattina, che sei? A qualità? Aspettiamo di vedere se sono alle 11 e mezzo C'è chi si fa lo spritz e l'aperitivo alle 11 e mezzo E' bellissimo che il limoncello E' bellissimo E' bellissimo E' bellissimo